Siamo in un posto bellissimo qui a Canale, nelle cantine Serafino, insieme a un'allegra brigata. Diciamo che questa è una cena dell'UNESCO che raduna Langhe, Montaumato e Romero, questo territorio bellissimo e questa è una delle tante, una delle cantine molto belle, molto attrezzate, non soltanto per la conservazione del vino ma anche per la rappresentazione del gusto. Quindi stasera passeremo una serata insieme a un'unica di questo grandissimo bellissimo terzo. Grazie a tutti.